Pallone interessante, bella la verticalizzazione, è stato molto bravo qui il difensore, Marciao, e si salva ancora un miracolo. Da profondo Firmino, Chierreiro, portiere che si allunga, occhio al pallone per il possibile vantaggio, non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Altro possesso perso, Roberto Firmino, 1-0, Bobi Firmino. Non trattiene, occhio alla possibilità. I dots con qui. Occasione. Tocco sotto elegante, che scavarcha il portiere. E rivediamo ancora il gol, ha superato bene il proprio marcatore. Da lì può... A metri! Sancho! Ecco la sua rete! C'era il suo nome su quel pallone, non poteva sbagliare. Attenzione pericolo! Buono, stavolta, azione insistita, buona circolazione di pallone. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Eh, si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altre imprese. Non facile, per quanto si è visto finora. Goretzka. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Intervento rischiosissimo. Occhio all'occasione per riaprire il match. Non ha dubbi l'arbitro. Potrebbe riaprirsi la gara. Calcio di rigore. Calcio di rigore. E non c'è l'esitazione. Ne arriva il secondo giallo, giallo. Il secondo, cartellino giallo, Pierluigi. La sua gara finisce prima del tempo. Non sbaglia. Siamo a seconda. Opportunità. D'Amarumma, ma il pallone è ancora lì. L'uscita del portiere di pugno. Toglie il ritmo agli avversari. Bisogna anche saper gestire. Se l'è bevuto. Guerreiro. C'è il segnale di chiusura per tutti i portanti davanti al proprio pubblico. Beh, una vittoria di carattere. È arrivata al termine di un match con me. Per il vittoria di carattere. Per il vittoria. Per il vittoria. Per il vittoria. Per il vittoria. Grazie a tutti.